Salve a tutti, bentornati su TV6 alla rotocalco di informazione e zoom in. Oggi ospite l'assessore regionale di trasporti Gian Donato Morra. Salve. Salve, buongiorno. Allora parliamo proprio di trasporti. Lei in questi giorni è stato a Roma, ha avuto un bel da fare, una a due giorni romana molto intensa, è stata la Commissione Nazionale Trasporti e come sono i rapporti adesso con il governo? In questo momento sono conflittuali perché è da circa un mese che tutti gli assessori di trasporti italiani, dipendentemente dal semipolitico, hanno ritirato i tecnici, i propri tecnici, i dirigenti regionali dal tavolo di confronto con il governo perché c'è stato un intoppo che comunque speriamo di risolvere in questi giorni. una delle problematiche, si parla spesso di trasporti, di contratti di servizio Trenitalia, è proprio di questo, dove in questo momento c'è questo forte contrasto, se ne parla tanto però si dimentica spesso di dire che a sostegno di questi contratti ci sono dei fondi nazionali che se vengono meno ci costringono poi a cambiare i servizi. Ma com'è la questione dei fondi adesso? Noi abbiamo, è semplice, noi abbiamo un'interlocuzione forte col governo che crediamo di sbloccare in questi giorni, ci sono stati vari incontri, c'era stata prima una previsione di forte riduzione sui fondi a sostegno dei contratti di servizio, una riduzione maggiore addirittura al 50%, quindi una cosa insopportabile e tutti gli assessori di trasporti, vi ricorderete, 4-5 mesi fa hanno restituito polemica i contratti di servizio regionale dicendo al governo che non avremmo mai accettato una diminuzione del genere. C'è stato, poi ci sono state varie interlocuzioni e si è riportati in un incontro con il Ministero dell'Economia questi fondi a una riduzione intorno al 20% che oltretutto non preoccupa l'Abruzzo perché avevamo già operato in una prima fase di riforma di tagli, quindi diciamo una cosa sostenibile. L'ultimo incontro col governo un mese fa, il governo ha posto di nuovo dubbi sulle somme che avevamo individuato, allora c'è stata una forte protesta e abbiamo interrotto il tavolo tecnico. Ma a questo punto che succede? A questo punto noi abbiamo, proprio in questi giorni per quelli sono stati impegnativi, presentato un documento finale, tutti gli assessori di trasporti, dove abbiamo individuato una somma per tutte le regioni che corrisponde a un miliardo 750 milioni di euro che sono le somme sufficienti per garantire i servizi, i contratti di servizi regionali così come oggi sono formulati. Il governo ha fatto delle grandi aperture perché fino al mese scorso era rimasto sulla posizione di un miliardo e due e ora invece si sta trattando, ma contiamo di chiudere proprio su questa cosa. L'altra cosa che abbiamo messo... Lei è stato a Roma anche per fare acquisti, se non sbaglio. Un'altra cosa diversa, sì. Allora, chiudo su questa cosa. Nel documento non chiediamo solo soldi, ma diciamo anche al governo quali sono la nostra idea di razionalizzazione e l'Abruzzo, nello specifico io, ho fatto mettere nel documento anche una fase emendativa perché noi abbiamo il 71% del territorio montano e non possiamo essere considerati come la Val Padana perché è tutto territorio semplice. Quindi noi chiediamo di applicare i coefficienti che vuole il governo, ma mediando poi per le zone A con delle particolarità a livello trasportistico che non possono raggiungere quei coefficienti che si può raggiungere sulla costa o si può raggiungere in pianura, perché l'Abruzzo, ripeto, il 71% del territorio è montano. E questa è l'interlocuzione col governo. A Roma siamo stati... Ha fatto due acquisti per, se non sbaglio, per la Sangritana. No, no, diciamo che abbiamo difficoltà a comunicare anche tante cose positive che si fanno. Due giorni fa, tre giorni fa, mi sono regato, affiancato il presidente della Sangritana, il dottor Pasquale Di Nardo, per ratificare l'acquisto definitivo di due locomotori elettrici dalla Bombardier per un impegno di spesa, diciamo che sostiene la Sangritana, però ricordate che la Sangritana è il socio unico della regione Abruzzo, per 7 milioni di euro e sono due locomotori che possono essere utilizzati sia sul lato merci che sul lato passeggeri. E questo è nato dalla necessità di Sangritana di emancipare ulteriormente il ramo ferro, perché anche se lo diciamo spesso, purtroppo, ma non parlo di voi, magari non si riesce a comunicare quanto è stato fatto. L'anno scorso la Sangritana, con l'interporto di Iesi, ha ottenuto una commessa di 60 treni completamente organizzati dalla Sangritana, che portavano le barbabietole dall'interporto di Iesi allo zuccherificio di Termoli. Naturalmente una commessa pagata che ha visto non solo l'affermazione di una ditta regionale su ferro abruzzese, ma anche guadagni relativi. È naturale che vanno fatti di investimenti. Spesso sentiamo di piccole cose, 7 milioni in un momento di crisi, con due locomotori, e la notizia è un'altra, siamo riusciti a intercettare già la costruzione di alcuni locomotori, perché i tempi della costruzione di treni non sono naturalmente i tempi di costruzione di un'autovettura, e siamo riusciti a ottenere la consegna in tre funi luglio. I cittadini abruzzesi avranno a disposizione due nuovi locomotori, e sapete quanto nei trasporti è importante il parco rotabile, sin dalla fine di luglio. Certo, quindi giudica superfluo anche l'allarme lanciato dal PD in merito al contratto in scadenza proprio il 30 giugno del contratto di servizio della San Cristana, hanno sollevato molti dubbi in questi giorni, hanno parlato di un'azienda in crisi che rischia addirittura che le venga tolto il servizio. Allora, io non giudico superfluo nulla, perché l'interlocuzione politica è sempre positiva, oltretutto, sapete, le mie leggi sono state votate quasi tutte all'unanimità dall'intero consiglio, perché pongo sempre una fase di confronto, e non parlo di uno di due leggi, ma di decine di leggi, perché credo che ai cittadini qualche volta farebbe bene anche leggere il bura. Questo allarme... Ma è un allarme, non c'è nessun problema per la San Cristana, il contratto di servizio con la regione scade il 30 giugno, sarà rinnovato prima, non vanno messe in correlazione la scadenza diciamo formale, per un semplice motivo, siccome in futuro andremo a gara, il contratto di Trenitalia e il contratto di San Gritano, scadranno lo stesso giorno, perché poi, quando ci saranno le gare, ci sarà la possibilità... Lei dice, andremo a gara perché anche in relazione alle liberalizzazioni... Certo, il decreto di liberalizzazione prevede... Con le liberalizzazioni si apre ai bandi di gara, per quanto riguarda il trasporto su rotaia parliamo ovviamente. Alle gare il decreto di liberalizzazione si occupa sia di ferro che su gomma, quando il quadro nazionale individuerà la data delle gare, tutti i servizi, gomma e ferro, andranno a gara, non può esserci la possibilità, ma questo lo capisce anche chi non si occupa di trasporti, non si può mica fare una gara per i servizi che fa adesso Trenitalia e una gara che fa i servizi che adesso fa San Gritano, si porteranno le scadenze di due contratti alla stessa data e quando ci sarà una gara riguarderà il territorio abruzzese. San Gritano entro il 30 marzo dovrà portare avanti il progetto di scissione? Sì, la vedo molto preparata. Quindi, però... Il progetto di scissione è su gomma. Su gomma. Che fine ha fatto appunto il progetto comunque di unificazione delle aziende? Qui in questo caso parliamo della gomma, quindi ARPA, GTM, San Gritano... Allora, è semplice. La legge che abbiamo approvato all'unanimità in Consiglio regionale in sede di finanziaria, cioè tutto il Consiglio regionale ha approvato la mia legge di proposta, di fusione, di fondere in un'unica società tutto il servizio gomma della regione Abruzzo, sia per la razionalizzazione, per l'ottimizzazione, però diciamo i cittadini, per arrivare a un unico Consiglio di amministrazione, a un unico soggetto revisore dei conti, quindi con grande contenimento di spesa e ottimizzazione dei servizi, prevede da parte della San Gritano la consegna alla regione entro il 30 marzo, quindi voglio dire siamo nei tempi del proprio progetto di scissione e poi ARPA e GTM devono presentare non solo a me, ma a me e poi io all'intero Consiglio regionale il progetto definitivo di fusione che sarà votato non in giunta, ma sarà votato dall'intero Consiglio regionale in quanto all'organo sovrano. Quindi siamo nei tempi, le società stanno lavorando e le polemiche devono arrivare quando non c'è rispetto dei tempi, non quando i tempi non sono scaduti, perché al massimo questi si possono chiamare auspici. Quindi arriveremo a questo gestore unico che poi è necessario anche per darci più forza da quello che si evince, da quello che si è capito, però poi il Presidente di San Gritano nei mesi scorsi aveva parlato addirittura di una possibilità di unificare il ferro e la gomma, perché la San Gritano poi è un'azienda che va sul trasporto delle merci, trasporto passeggeri, comunque è una grande azienda, è una grande realtà del territorio abruzzese. Qui c'è la possibilità in questo caso di poter unire ferro e gomma? Allora, la legge regionale impone di fare questo progetto, nulla vieta né le more, sia di presentare, perché tutti dove ci sono idee si pongono al confronto, di lavorare anche su un progetto di fusione che può essere congiunta o successiva, perché quello che... Si era anche parlato di un consorzio, perché sono tante le strade, si era anche parlato di un consorzio San Gritano per l'Italia. Le idee devono essere veicolate su una ipotesi di lavoro, ad esempio è in corso una trattativa serrata, tecnica, proprio da parte di Trinitalia e di San Gritano per valutare tutti gli aspetti positivi e negativi di un eventuale consorzio fra le due società, ma non perché sia una cosa nuova, perché è una cosa già sperimentata, lo hanno fatto nelle regioni pilota dei trasporti, che poi neanche c'è un seme politico di riferimento, perché l'hanno fatto in Lombardia e l'hanno fatto in Emilia Romagna con criteri diversi. Quindi sono ipotesi che vanno avanti, ma quello che bisogna far capire è che il Consiglio regionale propone una legge, su questa legge ci si può inserire congiuntamente o successivamente anche ad altre ipotesi, perché il decreto di liberalizzazione, io sono d'accordo con i cronisti nazionali che parlano di primo decreto liberalizzazione, perché non si può pensare sicuramente che con questo decreto si vada poi a discernere tutto o a statuire su tutto, ci saranno poi provvedimenti, circolari applicative, tante altre cose e il mondo trasportistico sarà comunque organizzato, tenete presente che questo confronto tecnico, governo, commissione, infrastrutture e trasporti non prevede la fine entro il 30 marzo, ma prevede già delle scelte entro il 30 giugno e a seguire. Senta, questi rumors che vogliono Montezemolo interessato al trasporto regionale, che cosa mi dice? Guardi, noi non abbiamo avuto nessun contatto. Ad oggi i privati nei trasporti ferroviari sono interessati o almeno hanno manifestato interesse solo sull'alta velocità o su alcune tratte particolarmente redditizie. Il trasporto regionale, se poi pensate in un'ottica abruzzese, l'orografia dell'Abruzzo, zone montane, zone difficili, zone interne, non so se è appetibile, ma quando ci saranno le gare, alle gare può rispondere chiunque, può rispondere il pubblico, può rispondere il pubblico insieme al privato, può rispondere solo un privato, le gare sono gare, liberalizzazione significa questo. Ma il futuro è dei privati? Com'è? Il futuro è dei privati nei trasporti? Beh, io dico sempre una cosa, il futuro è di una grande commissione fa pubblico e privato, c'è la nazione liberista per antonomasia che in America, che è l'unica forma di sostegno che dà, lo dà al trasporto pubblico locale, addirittura in America i bus, se non avessero i finanziamenti dei rispettivi stati, non potrebbero esercitare perché è un sistema che comunque ha bisogno del pubblico, un pubblico moderno, un pubblico razionalizzato, un pubblico sempre più lontano da logiche politiche, però voglio dire è necessario. Senta, lei ha parlato di alta velocità, quindi di alta velocità, ma l'area adriatica rischia di perdere, tra virgolette, il treno? No, assolutamente. A me piace questa domanda perché mi permette di dire delle cose fuori dai denti. Quando c'è stato per tanti anni scelte politiche scellerate dei precedenti governi che hanno portato a scegliere come area da emancipare dal lato ferro il lato tirrenico, adonta del lato adriatico. E ora vedo tanti personaggi politici, anche proprio legati a quelle parti politiche che hanno fatto questo scempio, che improvvisamente protestano. L'area adriatica tecnicamente non si può parlare di alta velocità, perché alta velocità non è un treno, alta velocità è un'infrastruttura, che il percorso attuale delle ferrovie non potrebbe mai essere, non dicevo a lei in generale, non può mai essere un'infrastruttura alta velocità se non ci sono provvedimenti diversi su quell'attuale cosa. Però si può parlare sicuramente di emancipazione e velocitazione del servizio. Però una cosa va detta, quando ci sono stati quei tagli, in parte già reintegrati, e quando ad esempio sono stati tagliati i treni notturni a Pescara abbiamo visto pagine dei giornali, quando poi, grazie a una battaglia che ho portato avanti io, sono stati reintegrati, abbiamo avuto due righe di giornali e addirittura c'era scritto che avevamo fatto rimettere i treni in orari sbagliati, erano gli stessi orari. Quindi probabilmente i cittadini è ora che iniziano a pretendere da noi lavoro, ma da tutte le componenti, perché non può essere allarme e poi la risoluzione del problema. Va bene, non perderemo il treno. Non perderemo il treno. C'è un dato tecnico, dopo le proteste, avete visto quando ci sono stati questi tagli sulla Adriatica, sulla sperimentazione che sta facendo Trenitalia, i primi tre giorni hanno protestato tutti, solo Obama non ha parlato della linea Adriatica, per il resto tutti si sono cimentati e poi sono tornati a preparare il proprio Natale. Contrariamente alle cose, qualcuno, io, ho preso la macchinetta e sono andato nelle Marche a fare un accordo con le Marche, poi sono andato, si è saputo più delle Marche, sono stato anche nel Molise e adesso abbiamo ricevuto anche una nota, mi allungo un po' ma è interesse ai cittadini, una nota da parte della Regione Puglia perché faremo un documento congiunto, le quattro Regioni, per portare gli assessori trasporti, tutti i Presidenti delle Regioni a un confronto col Governo e con Trenitalia intesa come RFI in tutte le sue competenze, proprio per parlare di questo, ma noi non parliamo solo di attività di contrasto, noi abbiamo detto una cosa, perché c'è qualcosa di nuovo nello scenario, il Senato si sta sbloccando man mano, sia a livello europeo che nazionale, quello che è il discorso sulla macro-regione Adriatico-Ionica, che significa integrazione di servizi, integrazione del commercio, integrazione dell'industria, del turismo e anche che le Regioni italiane devono diventare il ponte elevatoio per le Regioni Balcaniche, il paese trasfrontalieri. Allora noi lanciamo una provocazione all'attuale Governo, come si fa a parlare di Regione macro-atriatica se non si fa insieme, se non si progetta quello che è una nuova infrastruttura? Macro-regione Adriatica, l'alta velocità o la velocizzazione non si può fermare a Ravenna. Parlando di area logistica, arriviamo alle piattaforme logistiche, quindi a questi benedetti autoporti, di cui se ne è tanto parlato anche in questa settimana, in questi giorni, argomento d'attualità anche perché insomma sono state fatte delle conferenze stampa, anche dalla CNA, che le ha definiti, oserei dire forse anche giustamente, cattedrali del deserto. Dopo 30 anni non si è riusciti a finire, per esempio parliamo dell'autoporto, del progetto dell'autoporto di Castellalto, ma parliamo di Roseto, di San Salvo, di Avezzano, dove... Di Manopello. Ecco, l'interporto di Manopello, che succede? È semplice, quando siamo arrivati noi abbiamo trovato 5 cattedrali nel deserto, completamente bloccate, in un momento di grande congiuntura economica. Una piccola polemica, in passato qualcuno si è inventato due autoporti in provincia di Teramo a distanza di 12 chilometri, spero che un giorno, una volta risolto il problema, Roseto e Castellalto è una bestemmia a San Pietro, però l'hanno... Infatti Roseto adesso è diventato un autodromo. No, non è diventato un autodromo e quel filmato è stato fatto nel 2008, non c'ero io perché nel 2008 facevo l'avvocato e qualche assessore dei trasporti ha autorizzato quella cosa, quindi non scherziamo con la tempistica, però una cosa la dobbiamo dire, il discorso degli autoporti è collegato al discorso degli interporti, perché c'è sempre una scala gerarchica e logistica. Quando siamo arrivati noi l'interporto di Manopello, che è un accordo quadro, era praticamente un deserto stratificato. Oggi le opere sono state tutte realizzate e poco prima di morire il compianto Cavaliere di Vincenzo, il titolare della società che già c'è il gestore là, aveva parlato di un'accelerazione negli ultimi tre anni in quanto la Regione non è sempre stata a fianco delle opere. Le opere, invito tutti a passare a Manopello e guardare le fotografie di tre anni fa, sono ormai completate, c'è solo da definire il discorso del binario e forse qualcuno dimentica che con i soldi regionali fra qualche mese è pronto anche lo svigolo stradale. Perché è importante prima Manopello? Perché è l'hub della logistica attorno al quale poi si devono sviluppare gli autoporti. Il centro smistamento merci della Marsica, qualcuno dimentica, è quello quando c'è il confronto, che poi è giusto, poi altruzzo alcune cose siamo anche d'accordo, ci incontreremo con la CNA, poi lo dirò sui fondi, però il centro smistamento merci della Marsica ha avuto un'interruzione che non è la volontà, c'è stato il terremoto, se non ci fosse stata la sede della Guardia di Finanza all'Aquila e il centro smistamento merci della Marsica non si poteva fare quello che è stato fatto per il terremoto perché va ricordato che è stata lì messa la sede della protezione civile, lì c'erano i container freddi che hanno permesso di poter fornire le bottevaglie a tutti gli aquilani che erano i terremotati e invece finita la fase d'emergenza è stata ripresa la convinzione col privato, si stanno ultimando il binario, siamo tre anni che stiamo alla giunta ai chiodi, perché voglio dire si parla di 30 anni ma noi siamo arrivati adesso, si sta ultimando il binario e verranno terminati, ci sono gli autoporti, glielo devo dire perché otto mesi fa noi abbiamo fatto una nota per fare i bandi di gestione sulla scorta della legge regionale precedente, a questa nota che è stata mandata a tutti i soggetti interessati dalla legge non c'è stata risposta positiva necessaria, perché anche queste cose vanno dette, perché i comuni sotto 30 mila abitanti con una nuova norma nazionale non possono far parte di questo tipo di società che si devono andare a costruire con i soggetti in gestione, altri enti che possono farne parte visto la difficoltà congiunturale economica non hanno potuto rispondere, si sta cambiando, ci sono già delle proposte di legge, arriverà anche la nostra, poi le metteremo tutte insieme, delle proposte di legge per cambiare la legge sugli autoporti, perché così com'è non sono in grado di fornire le cose, c'è un'interlocuzione forte per creare o un sistema pubblico privato… Non ci sono neanche i fondi, perché se non sbaglio ci sono questi 8 milioni di fondi FAS che non sono effettivamente molti, c'è chi dice che sono troppi, c'è chi dice che invece non sono molti, che non siano molti, quindi come il PD per esempio è arrivata la proposta di legge di modifica del norme indirizzo dell'intermonarità regionale per convogliare questi fondi altrove, per l'ingresso, c'è questa modifica, questa proposta di legge del consigliere Camillo D'Alessandro, questa proposta di legge per fare entrare i privati addirittura. Ma allora è chiaro che in un momento di crisi dove la legge precedente e le difficoltà economiche degli enti, ma anche dei tipi di associazione di riferimento alla precedente legge sono un dato di fatto, si sta pensando, proprio lunedì io e l'assessore Marci incontriamo delle associazioni private di trasporto nell'ottica ad esempio per una forma di manifestazione di interesse nei riguardi dell'autoporto che lo sede. E' favorevole l'ingresso dei privati? Assolutamente sì. Assolutamente sì, io sono favorevole a che si chiudano queste incompiute, il problema dei fondi è che la polemica politica cambia le regole delle cose, le proteste si fanno quando non ci sono i fondi, noi abbiamo previsto e ottenuto, diciamolo, noi le abbiamo ottenute nella scheda FAS, la scheda FAS l'ho fatta io, abbiamo ottenuto anche la possibilità di sostegno alla logistica per 8 milioni di euro, poi il Presidente della CNA con cui ho ottimi rapporti, perché poi non è che il diverso semipolitico ci porta a una conflittualità necessaria, non è così, dice non spendiamo questi 8 milioni se non siamo sicuri del progetto, sono perfettamente d'accordo come direbbe, non so, quel come che diceva delle ovvietà, ma io non ho mai speso un euro di cui non sono sicuro che vada nel realizzo, è chiaro che eventuali utilizzi di questi fondi ci saranno solo se ci saranno dei progetti validi, altrimenti nessuno può pensare di utilizzare dei fondi su un progetto che non c'è. Quindi un'ottima domanda, sarebbe favorevole a un'eventuale riconversione? Allora in parte bisogna, secondo me bisogna lasciare quello che è l'originario, perché ad esempio sia per San Salvo che c'è l'indotto della Pilkington, c'è un indotto proprio dietro l'autoporto, credo che in tempi brevi lì si possa continuare nell'utilizzo dell'autoporto anche aprendo a un discorso di intermodalità col confinante Molise, quindi anche questo è una cosa che dobbiamo sollecitare. Sul Roseto, vicino all'autostrada, ci può essere comunque una cosa originaria. C'è chi vorrebbe veramente un autodromo lì, addirittura? Io sono per creare economie, gli autodromi si possono fare, magari io non ho questa idea, ma se arrivano proposti non l'esamina, perché voglio dire, magari non è quella che io ho pensato. Su quello di Castellalto dobbiamo pensare, di immaginare un'operatività però, io ce l'ho trovata, io non li avrei fatti due autoporti in 12 chilometri, chi l'ha fatto vuol dire che qualcuno l'ha fatto e noi dovremmo risolvere il problema. Su Castellalto dovremmo fare qualcosa di diverso che si fa sul costo, sarà una gestione privata, sarà qualcosa. Noi, poi quando USUNI ci presenta la legge, guardate che ne abbiamo presentate abbastanza di legge nel settore trasporto, presentare una legge significa che fra un mese c'è la legge che viene approvata subito, non è che ci sono calende greche, non siamo problemi di governi nazionali, ne abbiamo fatte tante in altri settori, dal sostegno ai terremotati, la legge di fusione che tutti aspettavano da vent'anni, però qualcuno dovrà pure dire che l'abbiamo fatta noi. Assessore, il tempo a disposizione è terminato, è scaduto, siccome dice lei, noi ci ritroviamo nelle prossime puntate di Zoom In, arrivederci. Grazie.